Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video della Federazione Italiana di Shogi. Allora, in questo video cercheremo di continuare di fare i Gakoi Jagura, tutto il gruppo Jagura. Avevamo lasciato un po' di lato questo, ma adesso si riparti per finire il gruppo Jagura. Allora, qui abbiamo il Sou Jagura. Come potete vedere ci sono i quattro generali a difendere il re. Il punto forte di questo castello sarà il lato destro, come potete vedere. Il punto debole è il lato sinistro, come al solito. Per il fatto che non c'è nessun generale, non c'è neanche un alfiere. Vediamo che i pedoni si trovano un po' più davanti del solito. Adesso abbiamo Nagara Jagura. Come possiamo vedere è un castello molto più complesso degli altri. Ci sono i quattro generali. Abbiamo l'alfiere. Qui vediamo che il re si sposta un po'. Che prende un po' di tempo a fare questo castello, sì veramente, per il fatto che dobbiamo spostare tutti i quattro generali. L'alfiere rimane allo stesso posto. I pedoni cambiano le posizioni anche un po' più avanti. Ma è un castello, diciamo, un po' pesante da fare. Punti forti di questo castello, proprio tutto davanti. Punti deboli sarà il fianco e sotto. Il fianco destro e sotto. Perché, se vediamo bene, spostare i generali ci prenderà un po' di tempo. La sola soluzione per questo castello, diciamo, per evitare che fare lo scacco, sarà di spostare il nostro re così e così. Qui abbiamo quello che si chiama Uave Jagura. Possiamo vedere che ci sono i quattro generali. Il re lo abbiamo spostato verso la sinistra. Punti forti di questo castello, un po' la zona davanti e i fianchi dove ci sono i generali. Punti deboli di questo castello, il lato sinistro. Anche un po' questa zona qua. Qui abbiamo quello che si chiama Gintachi Jagura. Possiamo vedere che è un castello un po' più lungo da fare. Spostare tutti i tre generali in questa zona, soprattutto i due generali d'oro. e il re. Quindi prende un po' di tempo da fare perché si va praticamente a metà dello Shogivan. Punti forti di questo castello, un po' questa zona qua destra dove ci sono i generali. Punti deboli, il lato sinistro del castello. Quindi questi sono i castelli che vediamo per oggi. Nel prossimo video cercheremo di finire tutto il gruppo Jagura. E così si finisce tutta la serie di castelli di Gakoi. che si utilizza nello Shogui. Che ci saranno magari qualche Gakoi in più, può essere. Ma abbiamo fatto una raccolta di quasi tutti quelli che vengono utilizzati nelle partite. Allora, io vi ringrazio. Ricordate di iscriversi nel nostro canale di Youtube. Seguirci nel Facebook. E visitare anche il nostro sito internet. Per essere sempre aggiornati. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.